Ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Tg Vallate in apertura. Andiamo a Pierantonio, un anno dopo il terremoto, nella cerimonia che si è svolta sabato. Per non dimenticare si è parlato soprattutto di ricostruzione con la prospettiva di inserire questo territorio nei finanziamenti del cratere. 2016. Sabato scorso 9 marzo, precisamente a un anno di distanza dal terremoto che colpì parte del comune di Umberti de Perugia, in piazza a Pierantonio, una cerimonia per non dimenticare quanto accaduto e soprattutto per fare il punto sulla ricostruzione. Da parte del comune penso che a fine febbraio abbiamo erogato intorno a 1 milione e 200 mila euro di cash. Abbiamo avuto la fortuna di stipulare un'assicurazione che ci permetterà di ricostruire con 1 milione e 200 mila euro la scuola primaria di Pierantonio, quindi di dare una prospettiva importante ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Aspettiamo con fiducia l'aspetto della ricostruzione, perché quella è una partita che comunque riguarda tante persone, tante case, però noi siamo fiduciosi e lavoreremo. Da assessore della protezione civile abbiamo fatto tutto e di più per quanto riguarda la fase dell'emergenza. In coscienza ritenevo che si potesse fare di più anche sul fronte della ricostruzione, comprendo che la situazione nazionale, tutto quello che è accaduto, alluvioni, Toscana, Emilia Romagna, Marche, e devo dire che hanno impegnato il governo. Ho fatto il possibile perché si chiudesse definitivamente questa ferita aperta. Stiamo adesso vedendo con il governo di trovare il veicolo giusto per mettere le risorse e iniziare la ricostruzione. E adesso sicuramente la mia, il mio auspicio è quello di inserirlo nel cratere del 2016, anche perché noi abbiamo le strutture già molto operative. Voltiamo pagina, il 2024 è l'anno delle stimate di San Francesco. Nell'ottavo centenario da quel prodigioso evento, la famiglia francescana dedica un tempo per celebrare quel fatto e per rileggerlo alla luce dell'attualità. Tra le iniziative più significative di quest'anno c'è Francesco Live, evento che porterà a Firenze dall'11 al 14 aprile 2024, centinaia di giovani da tutta Italia per quattro giorni. Francesco Live è organizzato in modo particolare dalla pastorale giovanile dei Frati Minori della Toscana in collaborazione con la gioventù francescana d'Italia, l'opera di Santa Croce, la comunità dei Frati Minori conventuali e con il Comune di Firenze. Un convegno sui diari di Fanfani, un evento su Amintore Fanfani e appunto i suoi diari. L'occasione sarà data al Teatro Papini di Pieve Santo Stefano il prossimo 23 marzo. Franco Cialattini, nuova iniziativa che ricorda Amintore Fanfani. Questa volta l'associazione Cairos si ferma a Pieve Santo Stefano, giocherete in casa. Dopo l'iniziativa di San Sepolcro e attraverso la mostra di pittura, questa volta affrontiamo Fanfani in un'altra dimensione, quella di diarista. E lo facciamo a Pieve, naturalmente che è non solo il suo paese natale, ma è soprattutto il paese sede di una prestigiosa istituzione, l'archivio diaristico toscano. Lo faremo attraverso un convegno al quale parteciperanno naturalmente, oltre al sottoscritto, il dottor Ottonelli che è uno storico del pensiero di Fanfani, e poi il professor Brezzi che è il direttore scientifico dell'archivio, e la dottoressa Natalia Cangi che è anche membro della direzione dello stesso archivio. Ci saranno poi alcune testimonianze di personalità locali che hanno conosciuto Fanfani, in particolare l'ingegnere Albano Bragagni, noto a tutti, più volte sindaco di Pieve, imprenditore di successo, Mimmo Metozzi, anche lui imprenditore, e poi una signora molto anziana che ha dei ricordi molto importanti e molto struggenti legati alla figura di Fanfani. C'è anche una curiosità in questa mostra? Sì, in una sala attigua, quella del teatro, ci sarà l'esposizione di 25 poster della collezione di Fanfani, di proprietà di un signore di Treviso, che sono riconducibili alle presenze che ha fatto Fanfani nel mondo allorquando acquistava questi prodotti che sono di particolare bellezza e suggestione. Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri sera sono state modificate, apportate alcune modifiche al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Castiglione del Lago. In particolare è stata accolta un'esigenza avanzata dalle associazioni di categoria che prevede l'introduzione per le utenze non domestiche, quali bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, e la possibilità di conferire presso i centri di raccolta e le eco-isole, che sono fruibili H24 sette giorni su sette, i piccoli rifiuti metallici come alluminio e contenitori ferrosi tipo barattoli e lattine, in analogia con quanto già avviene per le utenze domestiche. Inoltre viene potenziato il conferimento degli oli vegetali esausti. Cura per le aree verdi, richiamo per gli indisciplinati, il Comune di Castiglione Fiorentino tramite l'assessore Francesca Sebastiani invita ad un maggior rispetto dei giardini che sono stati appena inaugurati. Il tema del decoro urbano va di pari passo con il tema del senso civico che deve guidare una comunità. In quest'ambito il ruolo dei cittadini diventa rilevante. È difficile infatti, per non dire impossibile, amministrare il bene comune senza l'aiuto della collettività. Si parla dunque soprattutto di decoro urbano. Mozziconi a terra, randagismo e deiezioni degli animali da compagnia, quindi cani e gatti, sono tutti elementi che non aiutano in quella direzione. A Castiglione Fiorentino, all'indomani dell'apertura dei giardini pubblici di Piazza Matteotti, sono stati segnalati alcuni episodi che riguardano in particolare gli escrementi dei cani lasciati a terra dai loro padroni. La legge infatti stabilisce l'obbligo di raccogliere bisogni fisiologici che i propri animali depositano sul suolo urbano, nei parchi e nei giardini o all'interno di luoghi aperti al pubblico. Dal comune di Castiglione Fiorentino, tramite l'assessore competente Francesca Sebastiani, giunge un invito. L'assessore confida nella partecipazione dei concittadini per rendere Castiglione Fiorentino una città funzionale, ma soprattutto qualificata esteticamente. Salvaguardare e proteggere il territorio è un dovere di tutti noi, afferma l'assessore, per lasciare alle future generazioni un ambiente pulito e salutare. Al successo e all'alto grado di partecipazione registrati dalla rassegna Mondovisioni, organizzata dal comune di Castiglione Fiorentino, si aggiunge la vittoria agli Oscar del docufilm 20 Days in Mariupol, scritto e diretto dal giornalista Cernoff. Non vi sono dubbi sul fatto che il documentario di Cernoff, così coraggioso e veritiero, meritasse l'Oscar, ha commentato l'assessore Massimiliano Lachi. Non è tuttavia affatto scontato che il cartellone castiglionese di Mondovisioni abbia portato in Sala San Michele un docufilm la cui caratura sia stata riconosciuta dal mondo intero e dall'Academy. Per la prevenzione degli incendi abbiamo cambiato argomento e per sensibilizzare i giovani al volontariato nell'attività di antincendio, la Regione parte dalle scuole e quest'anno ha scelto la Scuola Media di Soci a Bibbiena. Diamoci un taglio all'iniziativa di prevenzione e di sensibilizzazione sugli incendi boschivi promossa dall'ufficio AIB della Regione Toscana, che è arrivata nella Scuola Media di Soci, grazie all'interessamento dell'assessore all'ambiente Daniele Bronchi. Si tratta di un progetto che porta appunto a conoscenza ai nostri ragazzi del rischio antincendi boschivi. In Casentino ovviamente come sappiamo è una culla per quanto riguarda l'aspetto forestale e non per questo anche se il clima non è proprio un clima favorevole agli incendi come lo possiamo trovare in altre parti della Toscana, in Riviera oppure anche nelle zone di Pisa dove ci sono già stati in passato grandi incendi. Comunque purtroppo con i cambiamenti climatici non siamo esonerati da questi rischi visto la grande quantità di boschi che abbiamo. Circa 80 ragazzi e ragazze delle terze medie dell'Istituto Comprensivo di Soci sono stati coinvolti in un percorso formativo che ha previsto un incontro teorico presso l'auditorium Berretta Rossa di Soci e che una parte pratica invece vedrà protagonista il centro antincendio della Regione a Monticiano. Il percorso pone anche l'accento sull'importanza del volontariato nella lotta capillare agli incendi. Invitando e sensibilizzando i ragazzi anche appunto a diventare volontari. Il progetto tutti gli anni interessa una scuola per provincia della Regione e fa parte delle attività istituzionali di Regione Toscana nell'ambito della prevenzione perché oltre alla lotta attiva agli incendi ovviamente Regione Toscana è impegnata in tutta una serie di attività di prevenzione, tra queste la sensibilizzazione ai ragazzi e ai giovani. Andiamo adesso a Firenze, si intitola il caso, la mostra dell'artista montevarchino Cristian Bardelli che sarà ospitata nel Palazzo del Podestà a Montevarche e è stata presentata in Consiglio regionale. Si intitola il caso, la mostra dell'artista montevarchino Cristian Bardelli che sarà ospitata nel Palazzo del Podestà a Montevarchi dal 23 marzo al 28 aprile. La mostra è stata presentata a Palazzo del Pegaso a Firenze, sede del Consiglio regionale. Cristian Bardelli, artista che è esposta a Miami, New York, in Svizzera, si è fatto apprezzare come uno dei più valenti esponenti dell'astratismo internazionale. Saranno 30 le opere di varie dimensioni, di vario contenuto che saranno esposte nelle sale di Palazzo del Podestà. Il caso, il caso è il titolo della mostra in quanto l'opera, la poetica, diciamo artistica di Cristian Bardelli verte sulla casualità, non c'è un progetto, non c'è un disegno preparatorio, ma l'artista quando ha cominciato a lavorare ha parlato di una necessità, di un'esigenza, proprio il riversare sulla tela il proprio sentire, le proprie emozioni, le proprie sensazioni. Vi dico solo che dovrebbe essere una bellissima mostra, visto che sono uscito dal laboratorio e poi ho portato le mie opere all'esterno in una mostra, è da lì che prendono vita. Noi siamo felici di poterlo ospitare al Palazzo del Podestà, abbiamo sempre cercato di fare mostre di varia tipologia, cercando soprattutto di valorizzare le eccellenze del nostro territorio e crediamo che Cristian Bardelli sia sicuramente una di queste. Questo è un bel gesto da parte dell'amministrazione comunale e della comunità tutta di Montevarchi di dare il giusto risalto a uno dei figli migliori della propria terra in questo momento dal punto di vista artistico. Sabato 16 marzo al Teatro degli Illuminati di Città di Castello e domenica 17 marzo alle 18 al Teatro Mengoni di Magione l'attore e drammaturgo Mario Perrotta porta in scena il suo spettacolo dei figli. Terzo capitolo della trilogia in nome del padre e della madre dei figli. Lo spettacolo vede insieme Perrotta e Massimo Recalcati impegnati in una possibile lettura di un fenomeno tutto contemporaneo, inizio dello spettacolo previsto per le 20.45. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per la cortese attenzione, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento con i programmi di Teletruria.